oh allora è diverso anche qui un canale si vuole il tuo senso non è vero non è vero non è vero non è vero com'è giocato vishalmai vado in postazione come partì? vediamo come proviamo non mi garba l'unica live che farò al momento lo provo no? però a me devo attaccare l'algurent che scherrico del pacco regalo? ho visto disco guante quello di keikei what the fuck keikei non è di non è mai cosa ero in giappone fessi di capodanno l'avvento diventare esprimere nel corso del capitolo 2 oh papi riporto no sto crepando non ho visto la grafica effettivamente anche il publisher che mi 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 me si Oh, mi ha raggiunto la nostra sorella già, beh. Comperoni. Lo so, le toglie. Addirittura. Ci ribaltata, lo so, lo so. Questo è poco il taxi, come succede, sai, sai. Tanto siamo all'incocio di scivuto. No, non so, 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 non so. Non so, non so. Non so. Non so. Guardi chi era questo che c'entra qui dentro, lo dove c'è il Kelle. Lo so che c'ha mezzo salvato. Non credo, eh. Nei vivi non riuscivo a entrare, mi sa che era tanto vivi dove non eravamo. La moto è intatta, eh. È l'occhio un po' rossato, è un po' di collirio. Quello specchietto, è lì. Ah. Dove è facile. Quando lo vedono, un pezzo di bacia che rimanga. È un pezzo di bacia che rimanga. Sì, sì, direi che la vedo. Eh, ecco qua. È un pezzo di bacia. No, 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 no. Cosa? Questa? Sopla con l'altro? Io che una nascita c'è tanto, mi devo haltarti. E finden quando ci sei. Direi così. No! Sio, prendetev 북. Perfetto! Bene, ora facciamo lo stesso! Sì, non lo so! Grande nascondiglio Che cosa è? Oggi! Il mio figlio! È il mio figlio! E non è il mio figlio! E non è il mio figlio! E non è il mio figlio! Il mio figlio è diventato! Grazie a tutti. 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 Va benissimo. Grazie a tutti. 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 Ahahahahha 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 Ahahha Ci sono... ci sono tutti i loro? Ah, ci sono i loro iniziatamente Poi che siano i loro iniziatamente Non mi sono? Allo per la tua terra? Allo per la loro A sottotitoli Allo che ci sono comunque Allo per la tua terra Sì, non è vero. un'altra parte un'altra parte tra Akito e i suoi poteri bene il prossimo momento avendo più abilità spirituale attraverso le nuove abilità non mi lo sto rispondendo va bene ho un'altra parte l'abilità spirituale ok l'abilità spirituale l'abilità la muscolazione è bloccata ok ora puoi cedere l'abilità va bene proprio nell'abilità spirituale dell'attacco di sotto attacchiaia io stai capendo l'abilità spirituale eh la mi diventi però attacchi di sicura eterna potenziale, terzo punto sinistro va bene l'evento vento, acqua e fuoco l'acqua d'acqua dal diametro di 4 metri c'è la parola di fuoco e il rischio deve essere un raggio di 4 metri però non posso ancora, ne devo sbloccare giustamente se posso ruolare adesso l'acqua più c'è fuoco a posto, stavo a 10 mi sa di non deve essere principata, va bene un telefono messaggio alla famiglia non preoccuparti mamma ora sei in un ospedale credo che mi riprenderò azzo proprio e credo la mamma si riprese mi indicherà per sempre non non ma non 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 Ok, ok. Se l'ho trovato, non lo so, non lo so Se l'ho trovato, non lo so Qualcuno ha trovato? C'è un po' di mangiare Dimenticare lo usare Per questo è così Ma anche se è così Ci sono dei piperi Per prima cosa andando bevendo Per prima cosa andando bevendo Per me ne sono dei piperi Ah, minchia Ok, va bene, sicuramente Deve riposarlo in un momento di bisogno Mi capito di inventare un cavio Ah, ok, equipaggiato Come lo uso, poi? Voi, ve lo dirà Forse sarà lei anche fuori, oi? Oh, ok Oh, ok Oh, ok Oh, forse, per la forza Non devo, non devo Oh, per la forza 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 Grazie a tutti 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 Mari Grazie a tutti Grazie a tutti Oh ci ha rotto Non mi serve Non era il capitolo La missione Grazie a tutti Il capitolo che è il capitolo che è il capitolo che è il problema Capitolo 2 Grazie a tutti 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 Sì, sì, la cazza. Sì, sì, la cazza. Grazie a tutti. Qualcuno è? Voi prendere la porta. Mi ringa. C'è questo? Edo ha creato l'auto. Edo ha creato l'auto. Edo ha creato l'auto. L'auto di l'auto, l'auto di l'auto. L'auto? S catch up. L'auto di l'auto è stato lo bravo. L'auto... L'auto solo deve salvare. Pec ok! tu non puoi salvare tu non puoi salvare tu non puoi salvare tu non puoi salvare metti il genitore del genitore e ti prendi salvare il genitore il genitore non si può salvare si parla del dispositivo di trasmissione degli spiriti questa ricorda è il passaggio del passaggio di Edo andiamo a Yuenzaka è il esempio questo è il proprio住atto andiamo a vedere quanto trovato Edo è vivo e questo è quello Edo è vivo questo Edo è vivo e questo Sì, non è vero. Tutti i casi. Non lo so, non lo so. Non lo so. Non lo so. Chi mi ha detto che si è vivi? Chi si è risponduta? Non è un pozzo, ma è un pozzo. Non è un pozzo, ma è un pozzo. Un pozzo è un pozzo? Non c'è un pozzo? Non c'è un pozzo? Non c'è un pozzo? Non c'è un pozzo. Guarda il bellino! Non c'è un pozzo? Non c'è un pozzo? Se il lo so che ha già diventato, andrò sui figli di lei. Non c'è un pozzo. Pidango, Cetriolo, Dango Tricolore, Pashidango, Colafra, Paghi, Paghi, Tagliolini istantanei, Comprescatelano. Quali c'è un'auto? Ah, c'è un'auto! Mi piace! Ah, li ricompriamo, gli piacciono. Perfetto, con il libro della dolce ciasi. Non te li compro, questi. Perfetto, con il libro della dolce ciasi. Perfetto, con il libro della dolce ciasi. Di Dango? Non te li compro, questi. C'è un po' di chiuri. C'è un po' di chiuri. Mi piace. Ti ho venduto un'azienda. Prendiamo questa. Prendiamo l'altra Katashiro. Perfetto. En un po' di chiuri, gli altri. Prendiamo questa. Questo. Prendiamo questa. Prendiamo questa. Prendiamo la quarte. Prendiamo questa. Il punto è più difficile. E' una volta, con il libro della dolce ciasi. Si c'è un po' di chiudono. Perché la dolce ciasi. Il punto ciasi è un po' di chiudono. È un po' di chiudono. È un po' di chiudono. Il punto ciasi, non è un po' di chiudono. Sì. 25. 26. 28. 28. 29. 30. 30. 31. Vaffanculo era qua ci può per cani Vabbè 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 QCS Divide C'è tutto da 4 Era Non da tango quella C'è un'azzo Mazzo C'è un'azzo Poi riponi gli utensili Putta via i contenitori di cibo vuoti E pulisce la cucina Prima che torni Pigrone Questa è gratuito Tuttavia Tu ti dovresti fare per me Non c'è 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 Secondario Questo Mi ha detto C'è Qualcuno Segui Sì Segui Io sono sicuro Per la mappa Se io doverai ottrai appunti abilità spirituali E tre migliorare le tue capacità Ah no? Ok Questa dei periodici Ragazzi A rinco Allora 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 La secondaria giapponese Vita e morte Cultura e storia Manacco Dei tagliolini istantanei 2020 Quattro anni fa Questo gioco Ma c'erano due qua Io l'ho comprato io Aspetta IoQUI Da La roma Spunica Vedo Scolo buddista Ma entrambi gli occhi Dimfetti Si è esaudito Un articolo Sennò Abbond simplesmente spazio Divango travi e' un'altra cosa è un'altra cosa è un'altra cosa e' un'altra cosa ok che cosa è questa ? si senti ? miscini d'原因 stai c'è quello che è c'è tu cos'ci Immagino, non è la niente. Non c'è un'esprezo che non c'è niente, ma non è un problema, ma non è un problema. In un'altra città, c'è un'altra città. Ebbene sono fino a un momento di tempo, il quadro è forse rotto, un po' potete regali, eh. Siete incontro con Erika, l'azione di Ebbene, riuscita a ovest. No, un proiettore. Ebbene, non lo so, chi è? Ha detto un paese, ma in qualità lo so, chi è? Si è morto? Ma una volta c'è un paese, troppo... ma... questo è quello che c'è il tuo figlio è il tuo figlio dove c'è? il codessore deve sparare l'acqua e va ah la l'è lì ooooh Per usare per l'alcobre, svolgato. Sono le porte tra l'altro, lui. Ah, poi la buona fotografia volca. Dore? Si, è un amici. E? Perchè, non è vero. Non è vero. Ma è vero. Mi ha avuto l'altro. Si è giusto? Non è vero che non è vero. Cosa? Ok. Ok. bella la vision teggio che dove c'è il suo? si la prossima qui qui è il 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 e il mio giro non ci hanno fatto una scuola e il mio giro e il mio giro e il mio giro e il mio giro se ci sono ancora inizierate il mio giro e il mio giro ancora c'è la scuola Sì, guarda! C'è stato un po' di più. a Ok. Che c'è sotto? Che cazzo di niente. Molto che c'è niente. Guarda, guarda, posso abbassare, guarda. Quanto c'è? Non c'è. C'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Cosa c'è? Ok. Cosa c'è? Quanto la visione è spettata. Questo è... L'altro è il lavoro di lui. Vai! Tutto bene. Va, va, va. Cosa c'è? Questo è... C'è una corruzione di spiriti, talvolta gli spiriti vengono intrappolati dalla corruzione Scusare la visione spettacolare per scoprire l'origine Caprici tutta la storia della corruzione e liberato gli spiriti potrai assorbirli Scusate, ci sono dei soldi Scusate, ci sono dei soldi Non è vero. Il bisogno di un刀 che ho trovato in un'emozione Scusate, ci sono dei soldi Ma partenza, ci sono dei soldi Scusate, ci sono dei soldi Scusate, ci sono dei soldi Ci sono dei soldi no si arancione gatto ho voluto so carezzare ma si chi era quello ma che ha carezzato schifo mi fanno carezzare bene il gatto no 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 un 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 Sì, sì, sì. SINCHI MADO Sì, non è vero, non è vero. C'è un ring? Se lo usiamo, si potrebbe andare in via Puoi ruolare? Oh, mi è piaciuto Non ci vuole, ora puoi spostare il gioco Storti in volo utilizzando le capacità di gancio e volo Gancio, va bene Volo, 11.30, le prime attività è venuto space per volare per un breve periodo Ok, per un breve tempo Storti in volo, ti tieni o alterna, vabbè Storti in volo, ti tieni o alterna Storti in volo 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 avevo 11, avevo 13 aspettaci le secondarie esplorazioni ok aspettare che stai facendo la secondaria perdoni ok, secondaria ma hai detto che ci sono le secondarie va bene tipo questa qui è una secondaria va bene ottenendo possibilità tra l'altro però quindi mi sblocco con la guarda eh sì io con la storia me li fa bene ok 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 di fuoco vedete le attacche potenziali ci ti dirò di nessuno di questo upgrade ok 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 tutti 15 tutti 15 ma facciamo questo da ok 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 sugli spiriti trasferiti miei a quanto possa arrivare 240.300 infatti 395 infatti 395 bollare in aria soprattutto durante il capodanno ok un mal di fuoco a caso un mal di fuoco a causa ma da quando è che sono mutato ragazzi direi dello star muto perché non ho detto granché niente però 4 oie cazzo sei senti c'è do you send me stiamo allora riguardete perché un'azvolta io ho un'azvolta un'azvolta Oh, stupido, che parte di due è? No, avevo fatto degli sigili Ah, infatti, E3 di questo colore, quando mi hai distrutto, ho bisogno di PS della tessitura di fuoco Ah, ok Ok, tanto, no no La tessitura è il suo etere Oh no, è a niente Oh no, è scompassione Ah, c'è un bario Hanno spostato la scritta di recente Cos'è la... Oh, è scompassione Oh, è scompassione Oh, è scompassione Oh, è scompassione Sì non so se mi conviene comprarle sempre o no che ne vendono una a combini conviene che vendono una a combini e comprare ok il stato del massimo è 10 ok questa roba dall'altra parte va bene grazie gatto tanto vede a fare più vedi che buttare sono? comprate anche il e mi vuole vedi la cosa è disponibile ma che non è disponibile è un problema perché non è un problema grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah no, c'era da prima e sono un cretino, vabbè. Ah no, c'era da prima e sono un cretino. Ah no, c'era da prima volta. Ah no, c'era da prima volta. Stupida. Ok, sono quelli su altri. Ah no, c'era da prima. Ah no, c'era da prima. Grazie. Ah, questo è il cane. C'era da prima volta. Ah no, c'era da prima volta. C'era da prima volta. Ah no, c'era da prima volta. Ah no, c'era da prima volta. Ah no. Ah no. Ah no, c'era da prima volta. Ah no, c'era da prima volta. C'era da prima volta. Ah no, c'era da prima volta. Ah no, c'era da prima volta. C'era da prima volta dove devo andare io. Speriamo che non ci si... No, altre 4. Aspetta, magari. Le finisco. Ah no, c'era una cammina qua in realtà. Qua non mi sa più di una cammina. Ah no, c'era una cammina qui. Dio, allora. Speriamo. 1.6 spiriti in cambio di 503. Sì, certo. Speriamo. 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 no questo è caramello a cercarmelo oi oi a cercare di lavorare vediamo cazzo io pensavo per il disco mi ho messo ora andiamo al sotto che ne dite la vostra faccia mi dice che cercate lavoro non fate finta di niente se trovo robe che le posso dare non c'è nulla no c'è la rua io ci ho dato ah no c'è il tutorial ok ok devo riuscire a trovare per portare io li sarai lautamente ricompensato ok con un negozio presso una questa bancarella con un negozio adesso questa bancarella non ricevi solo richieste con proprio progetti valori ok ora posso dare una vista perché un'altra cosa che non ho e ti dà ti dici mi ma bisogna dare anche quelle che stavo dito ok per il negozio per il negozio uno strano caso dei Tengu di città che bisogna sempre essere piuttosto popolare tra i yokai ancora uno ok è la secondaria però se no una cosa che mi sblocca vale ok sarà uguale qui sì quant'è la funzione? è una cosa è una cosa ma questo è un vendor normale sono dei tagliacchi è un modificio è un modificio è un rossi prego è un è un è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra è un'altra sono dei maker li chiamano io non posso leggere i soldi di solo me in casa e se ne fatti ok 2 fare roba basta 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 l'ho dove l'ho chiamato però alto l'ho chiamato abbassarlo un altro punto l'ho chiamato oltre il rosso oltre dove perché non c'era niente oltre il rosso però quello avanti nel rosso è arrivato un attimo gli effetti musica non aspetti direi che li abbassiamo le voci un altro velo mi hanno messo quasi che il gesto mi hanno fatto tutto bene anche la musica non mi sembra che c'era tanto alta un'altra cosa arrivo al giallo un po' 85, proviamo? Ci sarà altro Anche 80 va Un po' meglio Un altro, ci sono altri stronzi? Una mezza quella grande forse Allora, questo è quello grande, mi sa Sì, sì, posto, perfetto Anche dietro c'è un maledetto Allora, un po' più Un po' più Un po' più Un po' più Grazie a tutti. Scusa, ammazzate, io non sono un patristo. Spagna male. Prendilo. Mi sono sponati così, no? Vabbè. 9, basteranno. Un bastardio. Andare di da 1. Faccio un po' di. Ora ho tolto un po' di nebbia. Ora ho tolto un po' di nebbia. Oggi invece 10%. Adesso non ce l'ho verificato, un'altra ricona di spostamento rapido. Aha, vedi che c'era. R per arrivarci immediatamente. Ok. Ok. Cosa c'è da qui? Sì, vado a cercare di rinforzare il rinforzamento. Vado a cercare di rinforzare il rinforzamento di rinforzamento. Oh? Cosa è? I risultati ordinati dal meno fortunato sono i seguenti. Dai Kicci, per un rinforzamento di rinforzamento sono triplicati. Dai Kicci è incredibile. Kicci, prendiamo il rinforzamento del rinforzamento di rinforzamento. Kicci, per un tempo limitato di CPV non scendranno sotto la soglia critica. Nella darebbe scuso. Ok. Kicci, per un tempo limitato, sono i dati di me che ha ricevuto di lettera di questa risolta e raddoppiata. Kicci... Il Tokyo Bone Dance riechigge nel... Lei viene nell'area che... Ha un effetto... Ha un effetto... Del Tokyo Bone Dance. Sì. Sì, io ne ho pensato. Ne ho paraggio appoggiato a vicino a tutti. Ah, vicino a tutti si chiama, ne ho trovato. Il video con i mesi di venti... Oh, porca... Merda, non so se è negativo. È una merda questi... Eh... Qua... Ma pure, per 200. Perché in realtà sto staccando le cose? C'era? Fortunato! Questo è abbastanza critica. No, non è vero. No, non è vero. C'è critica, non è vero. No, non è vero. È abbastanza critica, non è vero. No, non è vero. No, non è vero. È abbastanza critica, non è vero. No, non è vero. 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 Beh. Ma che è successo? Oh. Non staremmo in una statua, almeno... Ah, è potere del fuoco questo, eh. Sono tenuto 10... Cascino del vostro santuario. Vorrei aumentare l'ordine a 15. Mi scuse per la richiesta così improvvisa, ma che ora ho qualunque somma necessaria per il disturbo. Eduo. Ma Ed? Prendiamo... Ah, va. Che si dira le voze, eh. Eh, tutto si dira le voze, eh. Eh, tutto si dira le voze. Pazzesco. Erano potenti lanci di fiamme, che colpiscono dalla distanza. Se carichi l'attacco, le lanci diventeranno sere, sere che esplodono e feriscono più visitatori per voze. Ok. Ok Sembra i tipi d'attacco Corri elementi d'attacco Corri armi Televuto ruota degli attacchi Ah con la E Corri elementi dalla tesiù terrietea Così come passare dall'arco o ai talismani Così come passare dall'arco o ai talismani E poi sa che non riusci Io sono pazzo L'arco Ok così Spento fuoco C'era l'acqua Questo è l'arco Minchia Non mi affettavo queste cose Passata ma saranno tutti i vari tipi di talismani Corriamo qua Non c'è un posto di Shibuya Non c'è un posto di Kagerie Non c'è un posto di Kagerie Non c'è un posto Non c'è un posto di Kagerie Non c'è un posto di Kagerie E' un posto di Kagerie Non c'è un posto di Kagerie Non c'è un posto di Kagerie Mi piace Ciao Ci rendiamo Non c'è un posto di Kagerie Non c'è un posto di Kagerie c'è lì c'è non è che c'è qua eh? come c'è qua? Grazie. si ha avuto molto di rispettare come si? mi ha detto è una sorella? mi ho sentito una sbaglia in mario mi hai scambio Ah ok, senza aprire lei con la rotella possiamo cambiare anche da generici, ah mi danno vento, sono generici, ho capito, ma c'è la nebbia però, possiamo rimpurificare altre nuove c'è la nebbia anche qua, la vedo, non c'è un corridoio senza nebbia hauto un braccio, andarivesse perci�orte ma Salo, marriagea non la rugізazione, all'Italia di alexandria Ah, vabbè, te l'hai da. Ah, vabbè, te l'hai da. Ah, vabbè, te l'hai da. Blocco perfetto, se blocchi io l'ho un tocco non vivo appena prima che colpischi, affettare un blocco perfetto, lo che potete imparare un attacco giusto bircundante. Oh, vabbè, 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 vabbè. Sì, vabbè. E' stronzale, eh. Si, ho un pochetto da farò, che mi sa che devo liberare un po' di tori. Ah, vabbè, vabbè, vabbè. quindi mi sembra fortignacqua però e e e e e e e e E' un po' più bello! Ah è andato! Alla limitata! Che gara adesso? L'acqua! L'acqua! Ma questa è la missione tra l'altro! Si svolta l'acqua C'è un gruppo di lame di accautiche Che coppia una zona ampia Per il senso era avvicinato Se carichi l'attacco per i visitatori con un'onda che li dettaglierà metà Ma queste erano 10 almeno O quello 5 Tirata nella zona Poi devo fare questo per farmi sbloccare l'acqua Puoi sempre l'acqua? Adesso faccio prendere anziché picchiare la morte Merde è spettrale Per questo Lo che ho stai pensato Presidente Per questi anni L'acqua? Per questo E' un po' più bello Un po' più buono Ma sono Un po' più buono Chi è un po' più buono Cosa cosa è quella D'un po' più buono però posso andare in rapidità però la roba è un'acqua provo l'acqua me la posso inderla anche il piede io metterci di base vento va in modo alternativamente alternativo diverso il risasso è uguale acqua ah sono diverso forse aumenta l'acqua ok coppio 11 ora siamo qua per freddo ok non è venuto da un cazzo però vabbè non mi costa niente 2.500 più 140 mi lascio riaffa un culo lì non è venuto da un cazzo ancora qui è venuto da un cazzo è venuto da un cazzo Per me lo di Giorgio Ezza Per me lo di Giorgio Sì, sì, sì. Grazie. E' dolorissimo. Ah, lui si para quello breve. Mi tastano su un po' da merda. E' un po' di là. 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 E' un po' di là, un po' di là. Oh, un po' di là. dove si entra qua va sono la signora che è arrivata lì mi ha paura non l'ho mai vista non l'ho mai Sì, è un po' là. Non è? E' un po' là, ma tu sai mai. Così? E poi prendo anche l'altro bè. non potrei anche veramente aspettare è un pezzo di un pezzo di un pezzo di un pezzo di un pezzo è un pezzo di un pezzo è un pezzo di un pezzo due giri ovviamente io potrei aver comuto il conto bravo fatti cazzo il vittatore ti può spettrare intanto oltre è scali oh no no le scale capito ma sono lì le scale però oh cazzo risficarne in alto è di sì no 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 che e 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 posso prenderlo 3 3 all'8 e 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 oh grazie e 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